tra poco andrà in onda nero su bianco settimanale di fatti accaduti nelle marche grazie a oggi mi sento molto chic e shock perché sono stato da moda leader mi sento chic perché da moda leader trovo ogni giorno più di 20.000 capi d'abbigliamento delle firme più prestigiose oltre ad accessori e calzature con marchi di grande qualità mi sento shock perché ho fatto shopping scegliendo il meglio per me e per tutta la famiglia a prezzi straordinari da moda leader ogni capo è scontato del 50 per cento sul costo indicato in etichetta sì perché da moda leader trovi il meglio della moda ma con prezzi dell'outlet moda leader a jesi dal 1987 è il primo outlet del centro italia con uno staff di assoluta professionalità ed esperienza che ti propone e consiglia capi esclusivi ai costi più bassi del mercato moda leader è un maxi store di mille metri quadri con nuovi arrivi settimanali ogni martedì per l'uomo per la donna per i bambini scopri lo stile di moda leader nel maxi store di jesi in via belardinelli 10 aperto anche la domenica pomeriggio moda leader la moda chic a prezzi shock il nostro più cordiale saluto cari amici ben trovati all'appuntamento della domenica con nero su bianco vediamo insieme i titoli del nostro approfondimento di oggi il presidente della regione acquaroli ha presentato la sua giunta poi andremo a fano per vedere uno screening di tamponi che viene effettuato su bambini che sono venuti in qualche modo a scuola a contatto con persone positive il nuovo dpcm rischia di essere un'altra mazzata per bar e ristoranti il dottor salvi primario a torrette ci spiegherà quella che è la riorganizzazione in caso di ulteriore aumento dei contagi e poi parleremo di bici con il click day che parte il 3 novembre ed infine ad arcuate è stata inaugurata una bella struttura per i ragazzi del posto allora questi sono i titoli andiamo subito dunque a vedere il primo dei nostri servizi c'era tanta attesa per la presentazione della nuova giunta regionale che governerà le marche per i prossimi cinque anni anche con qualche polemica sulle cosiddette quote rosa intanto comunque il presidente acquaroli l'ha ufficializzata giovedì scorso sentiamo caterina cantori dal videogiornale appunto del 15 ottobre io sono molto soddisfatto perché la vedo una squadra competente che già una profonda conoscenza dei territori in molti casi ha di mistichezza con la pubblica amministrazione perché in tantissimi componenti hanno governato città importanti e hanno gestito situazioni complicate quindi è in una fase così difficile credo che sia la migliore squadra possibile dopo l'attesa che ha accompagnato la sua composizione la giunta acquaroli è finalmente nero su bianco e ai volti di Mirko Carloni vicepresidente con delega allo sviluppo economico di Stefano Aguzzi esterno con delega al lavoro di Francesco Baldelli alle infrastrutture di Guido Castelli al bilancio e di Giorgia Latini altra esterna alla valorizzazione dei beni culturali Filippo Saltamartini alla sanità per sé il governatore ha tenuto il turismo come delega di sintesi delle azioni di rilancio del territorio restano così a bocca asciutta Ancona è fermo ma il presidente preferisce puntare l'attenzione su quella che sarà la rappresentatività espressa nelle commissioni consigliari. I territori sono tutti rappresentati in consiglio regionale la giunta può esprimere deve esprimere una visione complessiva quindi io capisco anche in questo senso sicuramente la soddisfazione di qualche territorio e la soddisfazione di qualche altro territorio ma è il nostro preciso impegno e mio preciso impegno di rappresentare tutti i territori in una visione complessiva è un po il problema della nostra regione che si è spesso frammentata divisa e non è riuscita mai esprimere una visione unitaria noi vogliamo provare ad esprimere per il tramite di questa squadra una visione unitaria. Un lavoro quello dell'esecutivo dell'undicesima legislatura che comincia subito dopo la presentazione sul tavolo il piano anti covid ma tra le priorità anche le politiche comunitarie la cui programmazione è in scadenza e il bilancio ormai alle porte la partita noi la giochiamo nei prossimi tre mesi cercando di combattere fortemente la crescita della pandemia e quindi ci metteremo subito al lavoro per organizzare un piano pandemico per organizzare la rete di medicina dei territori per organizzare tutte quelle azioni che possono dare un segnale importante in termini di contenimento della pandemia Anche nella nostra regione il covid sta entrando e non poteva essere altrimenti nelle scuole con diversi positivi tra insegnanti e studenti. A Fano è stato organizzato un punto tamponi per i bambini che in qualche modo possono essere a rischio. Sentiamo Daniele Andreani dal videogiornale del 15 ottobre Ci troviamo nella periferia di Fano, alle mie spalle il Codma dove è stato istituito un drive point per poter effettuare comodamente i tamponi rimanendo nella propria auto C'è già una importante fila che si è venuta a creare, sono molte le persone che attendono di effettuare il tampone prevalentemente con i loro bimbi. Come ci ha comunicato il responsabile, la maggioranza appunto di coloro che dovranno fare il tampone oggi sono bambini e giovani. Il funzionamento è semplice, si arriva sul posto, ci si mette in fila e si attende il proprio turno per poter fare il tampone. A Fano il punto drive è stato istituito recentemente per consentire a un numero maggiore di persone di poter effettuare il tampone in maniera rapida. La richiesta è molto alta, soprattutto da parte dei genitori che devono far controllare i propri figli, molti dei quali vanno in classe con altri ragazzini già i risultati positivi al virus. La classe è stata messa in quarantena perché hanno trovato un caso e adesso stiamo facendo il secondo tampone. Il primo abbiamo fatto a Urbino, è andato bene e speriamo anche il secondo. Stiamo facendo il tampone, ovvero mio figlio dovrà fare il tampone come screening perché ci sono stati dei positivi in classe. Molto lunghe le file per accedere alla postazione, con code significative, creando difficoltà soprattutto a chi deve recarsi al lavoro. Da quanto siete in fila qui al punto di Fano? Circa 45 minuti, circa. Avevamo appuntamento per le 10, sono le 10.34 ma ci siamo. Altri lamentano la mancanza di test più rapidi e sottolineano la necessità di velocizzare le tempistiche per evitare di rimanere bloccati tanto tempo in coda. Sicuramente uno strumento efficace per monitorare la situazione in modo più rapido e consentire il rientro sicuro nelle scuole dei più piccoli. Il Presidente del Consiglio Conte ha presentato in settimana il nuovo DPCM, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tutti, ci sono diverse misure restrittive tra le quali naturalmente si è parlato tanto del coprifuoco a mezzanotte per bar e ristoranti. Tatiana Cursi dal Videogiornale del 14 ottobre. Questi sono i locali nostri, la via lavora da mezzanotte in poi, quindi adesso vediamo le persone come rispondono, se si adeguano. Gli esercenti dei locali pubblici non ci stanno. Il nuovo DPCM che cerca di arginare l'escalation della pandemia prevede che le attività di ristorazione siano consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Una decisione che colpisce i gestori dei locali, prevalentemente dei pub, che lavorano molto dopo le 23. Le ripercussioni dal punto di vista economico ci saranno, ma sono difficili da quantificare e con le tasse da pagare i titolari dovranno rinunciare ai collaboratori con la perdita di posti di lavoro. Ce lo dice Giovanna Burattini, titolare del bar del Pinocchio, che si era fatta portavoce degli operatori anconetani del food nel post-lockdown. Si contrae l'orario di apertura di un esercizio, quindi si addenza ancora di più il pubblico, andando incontro per noi operatori a dei gravi problemi, sia per quanto riguarda distanziamento, ma soprattutto per quanto riguarda termini di fatturato, perché saremo costretti comunque a ridurlo drasticamente. Questo in mancanza di misure ulteriori di sostegno alle nostre attività, che non saremo in grado, anche per questa volta, di riuscire a far fronte a tutte le spese. Gli operatori vorrebbero dialogare con gli enti locali. La regione, i comuni, le prefetture, il DPCM, infatti, non distingue tra tipologie di locali. È giusto, ma deve avere un senso. Se vale solo per qualcuno, non c'è senso. Intanto c'è chi riorganizza il lavoro cercando di non perdere clienti e fatturato. Cerchiamo di fare qualche offerta, magari il pomeriggio, per accontentare i clienti, che magari si troveranno scontenti la sera. Le consegne a domicilio sono sempre consentite, ma senza consumazione sul posto o nelle vicinanze. Il distanziamento sociale resta obbligatorio. Intanto a livello sanitario ovviamente ci si organizza in caso di un ulteriore aumento dei contagi. Ne abbiamo parlato con il dottor Aldo Salvi, primario del pronto soccorso della medicina d'urgenza dell'ospedale regionale di Torrette. Ancora Tatiana Cursi dal videogiornale del 12 ottobre. Al Torrette di Ancona gli accessi al pronto soccorso sono aumentati. Sono circa 150 al giorno e sta lentamente crescendo il numero dei pazienti con febbre. Ma la situazione è sotto controllo. A spiegarcelo è Aldo Salvi, primario del pronto soccorso e direttore della medicina d'urgenza. La situazione comunque è destinata a peggiorare. La struttura però è pronta. È stata ampliata l'area di osservazione breve e intensiva, che è stata portata da 100 a 300 metri quadrati con 10 posti letto monitorati e locali a pressione negativa per limitare la diffusione del virus. Prevediamo un aumento degli accessi, soprattutto di persone con febbre, e quindi da scrinare per eventuale contagio Covid. Il pronto soccorso è preparato in un modo ben preciso, con un settore dedicato ai pazienti con febbre o comunque con un qualche sospetto e gli altri pazienti invece non sospetti. Abbiamo anche organizzato una modalità modulare in modo da organizzare gli spazi in funzione delle esigenze. Questo si può fare rapidamente. La struttura si può adattare in poche ore. La medicina d'urgenza interverrà come secondo livello quando il pronto soccorso sarà saturo o per pazienti più critici. Sono previsti interventi di edilizia leggera per separare i percorsi interni, suddividendo l'area Covid dall'adegenza ordinaria e dalle aree dove operano i medici. Ma secondo Salvi non si tornerà ai livelli del periodo pre-lockdown, quando l'80% dei pazienti che arrivavano al pronto soccorso con febbre era positivo. Il tasso di positivi non supererà il 10% perché le persone fanno attenzione. Non prevediamo che succeda quello che è successo nel marzo scorso dove nei giorni clou abbiamo 80-70 accessi al giorno, questo no, però sicuramente prevediamo un aumento moderato, più prolungato. Sarebbe comunque buona norma non arrecarsi in ospedale se la febbre non dura più di tre giorni, a meno che non ci siano sintomi respiratori o gastrointestinali importanti. È opportuno comunque confrontarsi sempre col medico di famiglia. Scatterà il 3 novembre il cosiddetto click day per coloro che hanno acquistato biciclette a partire dal 4 maggio. Sentiamo ancora Tatiana Cursi dal videogiornale dell'11 ottobre. Nelle Marche ne potranno usufruire i residenti ad Ancona, Pesaro, Urbino, Fano, Macerata, Fermo e Dascoli, perché hanno più di 50.000 abitanti. Dal 3 novembre scatta il bonus bici. Per quel giorno è fissato il click day per dare il via al rimborso sull'acquisto di biciclette e veicoli elettrici. Per richiederlo bisogna registrarsi infatti sull'applicazione web Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020. Il Buono Mobilità è un contributo del 60% della spesa sostenuta per l'acquisto, fino ad un massimo di 500 euro. Per il periodo dal 4 maggio 2020 all'inizio dell'operatività dell'applicazione basterà presentare la fattura o lo scontrino parlante. Successivamente si richiederà il buono da spendere per un rimborso del 60% fino a 500 euro. I buoni dovranno però essere utilizzati entro 30 giorni dalla richiesta. Il Ministero ha previsto due fasi. La prima in cui il cittadino si farà rimborsare il 60% della spesa e la seconda in cui pagherà direttamente al negoziante solo il 40% e poi l'esercente si farà rimborsare il 60% dallo Stato. E questo fino ad esaurimento risorse. Il Governo ha stanziato 190 milioni di euro per ora. Intanto le attività commerciali si potranno accreditare sul web dal 19 ottobre. Poi chi avrà già acquistato riceverà un bonifico. Gli altri un buono mobilità da consegnare al negoziante che verrà rimborsato dal Ministero. Col buono non si possono acquistare solo bici nuove o usate ma anche handbike e veicoli a propulsione elettrica come monopattini, overboard e segueway. Adesso invece andiamo nell'area del cratere del terremoto dove la scorsa settimana è stata inaugurata una bella struttura per ragazzi realizzata grazie alle olive alla scolana solidali. Sentiamo Daniele Andreani dal videogiornale del 10 ottobre. Da oggi i bambini di Arquata del Tronto potranno giocare in un nuovo spazio dedicato a loro. È stato infatti inaugurato alla presenza di varie autorità un nuovo plesso sportivo polifunzionale edificato nella zona adiacente al complesso di abitazioni realizzate per i terremotati. Nel campo ci sono varie aree, una dedicata al calcio, una per la palla a volo e un'altra per il basket. La realizzazione del plesso sportivo è stata possibile grazie ad un'iniziativa proposta da McDonald's avviata nel 2016 chiamata Olive alla scolana solidali. La nota multinazionale ha trattenuto un euro per ogni confezione venduta di olive alla scolana, simbolo d'eccellenza del nostro territorio, e ha destinato il ricavato, ossia una cifra di circa 470 mila euro, al comune di Arquata. È frutto di un'iniziativa di cui noi siamo veramente grati, perché questo campo è un campo che è appunto un segnale di importanza, di ribartenza, è un segnale che ha un valore sociale, ma un segnale che ha un valore umano, un'attenzione che noi veramente raccogliamo con molto piacere. Noi crediamo che le vite di queste persone e la valenza che questi territori hanno valgano molto di più rispetto alle procedure, quindi occorre semplificare, occorre creare una filiera istituzionale tra il commissario della regione e i comuni, affinché si possa dare subito risposte celeri e soprattutto dare veramente un segnale di speranza a tutti quelli che hanno aspettato 4 anni e speriamo che questi 4 anni non siano un'attesa in vana. Sono intervenuti alla manifestazione di inaugurazione il sindaco di Arquata Petrucci, il neopresidente Acquaroli, la sottosegretaria Morani, presenti anche alcuni dirigenti McDonald, fra cui il direttore della comunicazione aziendale Tommaso Valle, che ha spiegato come è nata l'idea del progetto. L'idea nasce a seguito del sisma del 2016 e da una forte volontà che abbiamo sentito con tutte le nostre persone, i nostri ristoranti, di poter portare un contributo concreto alle comunità colpite da questo sisma, da questa tragedia. Le immagini in quelle settimane erano immagini veramente tragiche e quindi abbiamo voluto unire le forze di tutti i nostri ristoranti e coinvolgere anche i nostri consumatori attraverso una vendita solidale di olive alla scolana. Siamo riusciti a raccogliere 470 mila euro grazie alla generosità di tutti i nostri consumatori e grazie a questa somma che è stata donata per intero al comune di Arquata del Tronto, oggi siamo qui con questa bellissima giornata a inaugurare questo campo polisportivo. Nel nuovo campo come ospiti d'eccezione presenti anche tre celebri sportivi marchigiani, Massimo Ambrosini, stella del calcio, Marco Belinelli, cestista di fama internazionale e Davide Mazzanti, CT nazionale di volley femminile. Gli sportivi si sono intrattenuti anche con i bambini e hanno giocato un po' assieme a loro. Tutte le autorità presenti hanno ribadito l'importanza di dare un segnale di svolta e di impegno collettivo per ripartire. Il sindaco di Arquata, Petrucci, ha ricordato il dramma vissuto sulla pelle dei cittadini e si è espresso duramente. Quattro anni di ritardo significa quattro governi e quattro commissari, sottolineando la lentezza della politica a dare risposte. Ed era questo l'ultimo servizio nell'ambito del nostro approfondimento di oggi con Nero Subianco. Nero Subianco che tornerà come sempre domenica prossima. E allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centromarche. Arrivederci. Nero Subianco in collaborazione con L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto e incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335 77 67 224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marla, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento.